Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, passala, cosa gridi quando la chiami, passala, piano. Quanto manca? Comunque va bene l'agonismo in campo però ci vuole anche un po' più di educazione nel calcio. Le buone maniere, le vecchie buone maniere. Fuori l'avore! Con tutto il rispetto arbitro, non continuiamo ancora a me. Ci sembra un tantino, ci sembra un tantino, ci sembra un tantino azzandarlo. Sappiamo che fai soltanto il tuo lavoro. Sappiamo che fai soltanto il tuo lavoro. Sappiamo che fai soltanto, sappiamo che fai soltanto, sappiamo che fai soltanto il tuo lavoro. Disparto! E' un piccolo piccolo! Fai attenzione! Sì, ma potrebbe fare un cambio, sono stanchi. Secondo me ci vuole anche più rispetto nei confronti delle persone che vivono di fianco allo stadio. Pensa tutte le domeniche, il casino, la gente che urla. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Passala! Cosa gridi quando la chiami? Passala, poi piano! A! 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 Grazie.